La GTX 1080 di Nvidia è la GPU consumer più potente attualmente disponibile. Già il modello reference offre prestazioni al vertice della categoria, ma se si vuole il massimo le varianti custom sono una scelta obbligata. Tra le numerose proposte disponibili, oggi vi parliamo di un GPU che spinge ancora più in là le prestazioni dell'architettura Pascal, grazie al particolare sistema di dissipazione che permette clock di fabbrica più elevati. La MSI GeForce GTX 1080 Gaming X 8G è la punta di diamante della line-up dell'azienda di Taiwan, il componente ideale per tutti coloro che non vogliono scendere a compromessi con risoluzione e dettaglio grafico, garantendo un'esperienza di gioco ai massimi livelli. Il design di questa GTX 1080 targata MSI è molto simile a quello della GTX 1070 Gaming X 8G. Nel lato in cui sono collocate le due ventole troviamo una scocca composta da due parti, una nera e una rossa, con la prima tagliata da alcune fenditure in policarbonato dove sono alloggiati i LED. Un altro LED è collocato nel bordo superiore sotto al logo MSI dove sono visibili anche tre headpipe per la dissipazione del calore. La parte posteriore è totalmente ricoperta da un backplate in metallo nero che dona una maggiore robustezza al PCB con il dragone di MSI ben in evidenza. La GTX 1080 Gaming X 8G è alimentata da un connettore a 8 pin e da 1 a 6 pin contro il singolo connettore a 8 pin presente nella GTX 1080 Founders Edition. Uno dei punti forti della GPU di MSI è il sistema di raffreddamento Twin Frozer 6. Questo sfrutta due ventole Torx 2.0 con un particolare design delle pale, leggermente curvate, garantendo una pressione dell'aria del 22% più elevata rispetto ai sistemi tradizionali, il tutto senza impattare sulla rumorosità. Le ventole comprendono anche doppi cuscinetti a sfera che garantiscono una durabilità nel tempo più elevata rispetto alle soluzioni tradizionali. Il sistema Twin Frozer 6 permette di mantenere le ventole completamente spente fino a 60 gradi quando la potenza della GPU non viene sfruttata al massimo. MSI ha inserito una base in rame nichelato a diretto contatto della GPU che si occupa di trasmettere il calore alle alette del dissipatore e alle headpipe. Sotto al dissipatore troviamo una serie di componenti elettronici di alta qualità che comprendono anche 10 fasi di alimentazione. Sulle memorie GDDR5X sono installati degli Headseek extra per migliorare la dissipazione del calore. In pratica tutto il PCB è personalizzato e comprende componenti elettronici con certificazione Military Class 4. Le interfacce includono tre displayport 1.4, una HDMI 2.0 e una presa DVI. MSI GTX 1080 Gaming X 8G si basa sul chip GP104 di Nvidia con 2560 CUDA Core e frequenze base e boost rispettivamente di 1607 e 1733 MHz. Si tratta di una GPU composta da 7.2 miliardi di transistor e realizzata con un processo produttivo a 16 nanometri capace di generare 9 teraflop di potenza. Troviamo poi 8 GB di memoria GDDR5X a bordo con un bus a 256 bit capace di trasportare 320 GB al secondo. Piena compatibilità è ovviamente offerta con le DirectX 12 e con Vulkan nonché con tutte le tecnologie pensate da Nvidia per l'architettura Pascale, il tutto con un TDP di 180 Watt. Il lavoro svolto da MSI si concentra sulle frequenze di clock più elevate rispetto alla Founders Edition suddivise in tre stadi, tutte gestibili dell'app MSI Gaming App. Si parte dalla modalità Silent che riprende le frequenze di funzionamento del modello Reference per poi passare al Gaming Mode che spinge a 1683 MHz il clock in modalità base e 1822 MHz quello boost. La terza opzione porta ancora più in alto questi valori rispettivamente a 1708 MHz e 1847 MHz. Si tratta di uno scarto piuttosto marcato nei confronti della Founders Edition che coinvolge anche le memorie, clockate di default a 10108 MHz contro i 10.000 previsti inizialmente da Nvidia. Nel caso delle frequenze della GPU tuttavia c'è un altro fattore da tenere in considerazione ovvero la tecnologia GPU Boost 3.0 di Nvidia. Osservando la scheda in azione ci si accorge infatti che i valori di clock della GPU raggiungono di norma senza alcuna impostazione particolare un valore compreso tra i 1924 e i 1936 MHz, più di quelle dichiarate. Questo perché la tecnologia GPU Boost 3.0 imposta una frequenza diversa in base al potenziale della GPU fino al raggiungimento di una soglia critica di temperatura. Per misurare le prestazioni della GTX 1080 di MSI abbiamo usato le impostazioni sempre al massimo, filtri compresi, con un sistema di prova composto da una CPU Intel i7-6700K, una scheda madre MSI Z170A Gaming M5, due banchi di RAM DDR4 da 16GB e un SSD Samsung 850 EVO. Batman Arkham Knight ha fatto segnare 47 frame medi in 4K, 80 in 1440p e 105 in Full HD, il tutto con gli effetti Nvidia Gameworks attivi. Il titolo successivo è invece Star Wars Battlefront, un gioco piuttosto leggero, che ha mostrato a schermo 65 frame al secondo in 4K, 118 in 1440p e 168 in 1080p. Il classico Metro Last Light Redux, da sempre ostico da gestire per la GPU, con Super Sampling attivo, si è fermato a 21 frame al secondo in 4K, raggiungendo i 50 in 1440p e gli 88 in 1080p. Just Cause 3 funziona come sempre alla grande, arrivando a 50 frame al secondo in 4K, 91 in 1440p e 122 in Full HD. Chiudiamo con Rise of the Tomb Raider, anche questo un gioco piuttosto pesante, attivando tutti gli effetti, che si è fermato a 21 frame al secondo in 4K, salendo poi a 43 in 1440p e a 71 in 1080p. Osservando i dati dei benchmark, le prestazioni sono ottime, anche se il 4K a 60 frame rimane una vera chimera, come già evidenziato dai benchmark della GTX 1080 standard. I titoli che hanno messo maggiormente in difficoltà la GPU di MSI sono Rise of the Tomb Raider e Metro Last Light Redux. Nel primo caso è bastato disattivare il Super Sampling, senza toccare altro, per far barzare il frame rate a 51 frame al secondo in 4K. Stessa cosa per Metro Last Light Redux, che con il Super Sampling disattivato è riuscito ad andare a 51 frame al secondo in 4K. Passando all'overclock e alle temperature, abbiamo cercato di trovare una configurazione che potesse garantire un buon rapporto tra prestazioni e stabilità, raggiungendo frequenze, soprattutto per le memorie, davvero elevate. La scheda infatti è riuscita a gestire frequenze di clock per la GPU fino a 2076 MHz, mentre le memorie GDDR 5X sono arrivate a 11.232 MHz, senza crescere dopo diversi cicli di benchmark. Per quanto riguarda le temperature, a riposo la scheda si attesta intorno ai 40 gradi, mentre sotto sforzo si arriva a 73-74 gradi. Durante l'overclock, con i valori indicati poco sopra, si arriva a circa 77 gradi, segno di un'ottima dissipazione del calore da parte del sistema Twin Frozer 6. La MSI GTX 1080 Gaming X 8G è una scheda dedicata a un pubblico d'elite, che non ha difficoltà a spendere cifre elevate per una GPU e che vuole sempre il meglio disponibile sul mercato. Questo si traduce purtroppo in un prezzo di vendita online che parte da circa 850€. Le prestazioni sono semplicemente al vertice della categoria, nonostante sia ancora impossibile raggiungere 60 frame a seconda in 4K in tutti i titoli, salvo con qualche piccola rinuncia dal punto di vista grafico. Probabilmente dovremo attendere una eventuale 1080 Ti per questo, se non la prossima generazione di GPU, a conferma dell'elevata capacità di calcolo necessaria a gestire questa risoluzione. Il sistema Twin Frozer 6 ha funzionato in maniera eccellente senza mai portare la GPU al di sopra dei 80 gradi e con una rumorosità nulla durante l'uso quotidiano e solo appena percentibile durante il gioco. Purtroppo la 1080 rimarrà un sogno per la maggior parte degli utenti e questo è il più grande limite di questa GPU, destinata a fornire ottime prestazioni ancora per molto tempo.